Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Recentemente, Costantino Vitaliano, un tempo concorrente in un famoso reality show e ora una figura ben conosciuta nel panorama televisivo, ha aperto il suo cuore riguardo una battaglia personale molto intensa, la sua lotta contro una malattia autoimmune. Questa sfida ha iniziato a delinearsi in un giorno apparentemente ordinario, durante un gioco con sua figlia di otto anni, quando un semplice dolore al dito ha segnato l'inizio di un percorso difficile e inaspettato. La situazione di Costantino ha preso una piega inaspettata quando un persistente dolore allo sterno ha condotto i medici a scoprire una preoccupante anomalia sull'orta ombelicale. Inizialmente temendo il peggio, forse un cancro, ha vissuto momenti di profonda ansia e incertezza. Fortunatamente, la diagnosi di malattia autoimmune, pur portando nuove sfide, ha offerto un certo sollievo rispetto alle paure iniziali. Nei venti giorni successivi, Costantino ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario, una serie infinita di esami medici e un dolore incessante che ha reso necessario l'uso della morfina per trovare sollievo. Il percorso è stato reso ancora più arduo dall'inserimento di uno stent, dalla significativa perdita di peso e dall'incessante incertezza sul suo stato di salute. Costantino è attualmente in terapia, che include l'uso di cortisone, un farmaco che ha influenzato notevolmente il suo equilibrio emotivo, oscillando tra momenti di euforia e fasi più buie. Nonostante queste enormi sfide, Costantino non ha perso la sua positività e la forza interiore. Sostenuto dall'amore incondizionato per sua figlia e dalla sua determinazione a mantenere intatta la sua identità.